L'ambiamento della discarica come risarcimento dei mancati termopoli svalorizzatori? Questo è un riporto del cittadino che fa sottragata. Perché il solito dottore? E' un riporto del cittadino che fa sottragata sia per l'obiettivo che per l'obiettivo. Suo ambiente è di proprietà, vado dalla discarica, è di proprietà di Catanzaro? Come? Suo ambiente. Nessuna domanda o risposta di Catanzaro?